BOLZANO Bolzano, ogni giorno tra i 150 e i 200 profughi transitano dalla stazione ferroviare del Capoluogo. La giunta provinciale si è occupata della situazione relativa a rete di aiuto e strutture di sostegno. I profughi arrivano normalmente in gruppi di 30-60 persone, si muovono in maniera autonoma e intendono proseguire il loro viaggio verso nord. Le ferrovie dello Stato hanno confermato di aver messo a disposizione presso il binario 1 nuovi spazi per l'accoglienza temporanea. Cerchiamo adesso di trovare dei comuni dove possiamo dire che abbiamo una certa ripartizione equa in tutto il territorio provinciale. Questo mi aspetto le risposte entro il 6 di maggio, poi logicamente anche noi abbiamo diversi edifici che potrebbero essere utilizzati. Poi valutiamo assieme con i responsabili dei comuni, sicuramente anche con il consorzio dei comuni, una ripartizione equa per tutto il territorio provinciale. La provincia sta comunque lavorando a stretto contatto con la Questura, il commissariato del Governo, la Polizia Ferroviaria, le fervie dello Stato e l'associazione Volontarius che coordina gli aiuti. Tutto questo per offrire non solo il miglior flusso informativo nei confronti dei profughi, ma anche per garantire spazi adeguati all'interno della stazione. Cambiando argomento, la Giunta si è occupata anche della nuova legge urbanistica. Per quattro mesi gli esperti dell'amministrazione e del settore urbanistico insieme ai liberi professionisti hanno discusso principi e contenuti di una nuova legge che armonizza lo sviluppo del territorio e del paesaggio. In Giunta Provinciale è stata presentata una prima bozza delle linee guida che dovranno indirizzare la nuova legge e che si punta ad approvare dopo un'ampia discussione nell'ottobre del 2017. Sappiamo che le basi della nostra attuale legge in vigore risale all'anno 1970 e che nel frattempo abbiamo subito tantissimi cambiamenti e non solo che riguardano la nostra società, come per esempio la composizione delle famiglie, l'immigrazione, ma anche abbiamo assistito a una completa trasformazione anche del settore dell'economia. La Giunta Provinciale ha messo a disposizione 50.000 euro per un primo intervento nella fase di emergenza dopo il terremoto che ha devastato il Nepal. Nelle prossime settimane saranno valutate ulteriori misure per garantire aiuto alla popolazione locale.